Ecco Baranello, nel Molise. Fino a ieri se ne parlava quasi esclusivamente per i formaggi e le ricotte, che sono la sua specialità. Da oggi c'è un motivo di tutt'altro genere. Baranello ha riordinato, infatti, il suo museo civico, rimasto chiuso per tanto tempo a causa dei danni sofferti durante la guerra. Nelle sale del museo sono ora tornati, per soddisfare l'interesse e la curiosità dei numerosi visitatori, preziosi oggetti romanici, italici ed egizi, rinvenuti negli scavi archeologici, bronzi, pregevoli ceramiche, sculture, antichi arredi sacri ed alcuni esempi della raffinatissima lavorazione artigiana orientale.